Nell'episodio precedente Bene a tutti ragazzi, sono Agisius Io sono Matthew E io sono Matthews Mamma mia che fantasia Io non ci vado Penso che sia l'unica strada Perchè è andata giù la luce Perchè, io sto così da Io odio i corridoi Chi mi vede? Non posso... Grazie! Mi vedi? Non hai occhi Ah, un occhio apparso così a caso Bene Ma questo non è più l'ospedale dove vengono messi i cadaveri Camera molto male Va bene, tutto ok Non è tutto ok veramente Ma dettagliate Ah, bello Bello, mi ha fatto spawnare Cos'è? Oh, mi piacciono molto questo tipo di porte E mettono un nuovo stile nel design della moda Guarda qua Allora, ma perchè stiamo girando in tondo? Posso fare una domanda stupida stupida? Stupida stupida, sì Perchè deve andare in quel luogo lì? Ah, bella domanda Perchè sai non ti so rispondere Perchè è un minchione sto qua Io probabilmente sto dimenticando qualcosa Perchè WTF Ma pappa Guardami il fatto che io No Non è che sarebbe aprire una di queste porte No Io non ci vado di lì Fa il culo Ok, perchè è sparito Allora, veramente stiamo per inseguire un tizio brutto brutto in un corridoio Io non lo farei Semmai è lui che insegue noi Secondo la logica del Sì, è vero Non ci avevo pensato Sai che sei... Fuck you Aia Oddio Ma perchè hai la bocca? Perchè hai l'occhio al posto della bocca? La bocca al posto dell'occhio Non l'ho capito Fuck you Quanto è alto questo tetto? Non ci devo entrare, l'abbiamo capito Non ci entro Va bene, va bene, va bene Ti ma la ninja No, mi fa diventare tutto rosso Stiamo andando a una velocità, ragazzi, che ha dell'incredibile Cioè, vabbè Cosa? Un errore fatale E' un errore fatale fatto dal gioco E' un errore fatale E' un errore fatale E' un errore fatale E' un errore fatale Ma che be... Ma sapete che A re da anche con stile Devo dire questo Cioè E' anche il Mr. B Con loro ha così la sua casa Posso chiuderti? Posso schiacciarti? Aspetta che ti facciamo la... Il test del... Aspetta Ehm... Dimmi quante dita sono? Hai bisogno di un cane Ho decisamente Pensavo fosse un horror un po' più... Tu l'hai detto adesso! Tu l'hai detto! Adesso salta fuori, vedrai! Tu l'hai detto! L'ha detto! Troll face! Io non ci vado di lì! Hai capito tu? Ma fa tanto! Mi hai trollato in una maniera incredibile! Ti devo fare i complimenti! Io sono un veggente ragazzi! Se avete bisogno mi dite da me! Chiamate Matteo allo 000 000 E perchè? Help! Stop! No more! Stop! This is hell! Stop! He's here! Help! No! He's here! Why stop him! Un circolo occhialico! Non satanico! Cosa hai detto di me? You little bitch! Cosa hai detto di me? Tu! Riguardo! Riguardo a me! Tu! Lasciamo la vostra immaginazione! Ecco! I see you! No! Help me! No! Please! Cioè prima dice ti vedo, poi dopo chiede aiuto! Non credo che sia stato lui a chiedere aiuto! Credo che qualcuno sia rimasto intrappolato qua e abbia chiesto aiuto! Waiting! What are you waiting for? Leave me alone! Con la chiave non mi piace! Con la chiave non mi piace! Perchè all'istia? Sinistra! Allora si va a destra! Bello! Cos'è quella? Oh! 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 Che bravo! Mai ascoltare questo! Leggente 2! Al contrario! Esatto! Allora perché? Che penso che si bisogna andare di qua! Solo questa piccola! Sì! Ok non mi sto muovendo! Sì ci stiamo muovendo! Ah sì ok! Cazzo! Oh! L'hai visto anche tu vero? Sì sì! Non è che c'è una botola magari! Non è che devo farmi prendere da lui! 0-1-0-1-0-1-1 Va a pixel! C'ha mangiato! Un error as the cooler come to load the next game! Wow! What! What the fucker! All'inizio! E io vado al contrario! No! Non posso andare inizio! Siamo tornati indietro praticamente! Sì! Eh! Che bello! Prossima stanza! Vai! Non posso caricare la prossima stanza! E cioè cosa vorresti dire che non posso caricare la prossima stanza? Ah! Ah! Grrr! Ask! Curred not load next room! Room nel se... Oddio! Mi sa che lo stai caricando fin troppo bene la prossima stanza! Sì! Adesso come lo scrivi? And now scurred not load Io lo volvo là! Ah però ci sono due occhi! Sì! Facina! Ci sta vedendo anche da lì! Perché? Corri! Corri tu nella prossima stanza! Stanza 3! Ma vaffanbagno! Ma che cambia ogni volta? Ma che cambia ogni volta? Vaffanbagno! Ma che giudere! Sono ancora! Oddio! Ma che brutta stanza! Corri! 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 Non fa male! Che belle stanze mangiate del cavolo! Oddio! 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 Sì.. Che bello! Siamo passati dall'era preistorica all'era.. Ma io andrei sulla prima porta che trovo qui! No.. Pessima intuizione! Sì.. Pessima decisanta! Vabbiamo! Ma c'è gente che fa piacere stare qui sempre! Però la domanda mi sorge sempre spontanea, cosa ci fa qui? E cosa cazzo vuole da noi? Non lui, cosa ci fa quello che stiamo guidando diciamo? Ma è sadico forte il tipo Wow! Ah ma però non posso passare oltre Ma che è? Ok Altro che il labirinto The Maze Runners Mi dicono che sia un vero Non posso passare Ma dove mi stai portato? Ci sono delle formiche che passano verso nulla Si ok però Ok Non posso passare Perché c'è un palo Ah si ma cosa c'è scritto? Niente Pixel assurdamente grandi Exit T C C B Lu V Tu exit Ho composto la sala Non si è capito ma l'ho composto Si Troppo silenzio Mai voltarsi indietro MAI Oddio Ma quanti siete? Ma siete belli eh Ci sono più occhi qua che le telecamere nella casa del grande fratello ripeto E direi che c'è nessun 150 BAU 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 DU SI MIAO Bravi bravissimi Benito Cos'è sta cazzo No Ci ha trovato E' normale o? Braindance Adesso devo chiudere Che vuole questa cosa? Mi ha trovato solo una, due, tre, quattro, cinque Cinque No Caro amico mio sei proprio bello Allora se io mi trovo dico io Lasciate i commenti se tu ti mi piace Iscrivetevi qui E io ce li ho venuti su un video Brava ragazzi Non mi ricordo già Eh aspetta Per favore Per favore Per favore Per favore Per favore No eh Cos'è sta Quindi sapeteci lasciate i commenti? Sapeteci lasciate i commenti? Sapeteci lasciate i commenti? Ciao siamo bravi Non ce la faccio Non mi circolvi tu E' un bel Ciao cazzo Oh no No Se tu mi piace di un commento? Non ti piace Che non faccio il bene? Provo a fare del resto di polio Si può fare del resto di polio Si No io non Non sono ancora più il psicologico Quello? Bello? Ok Aspetta Aspetta Meggio Meggio E io concludo così doppio concentrazione Concentrazione Si magari Ok è la prima volta Concentrazione Concentrazione Lasciate un commento Iscrivetevi E noi ci vediamo nel prossimo video Tornare a casa è un'ottima idea Nooo Pronto? Ti sei divertito a guardare i vlogger lottare? È lo stesso tizio di prima Ma non era uno spettacolo poi così scioccante Come ho appena visto porto solo alla luce Le falsità di questo mondo Falsità come le brother band ad esempio Ma chi diavolo sei? Io? Io sono Ray